buona a tutti i startini eccoci qua in un nuovissimo video e oggi abbiamo l'ospite signor nasciami gregati ma da quanto tempo non la vedo sul mio canale è ancora vivo sono ancora vivo ragazzi troppi pegnato troppi pegnato e basta mi hai diventato un uomo d'affari ma oggi cosa abbiamo qua davanti ho sentito un profumino in quel di milano ho detto fammi dire eccolo perchè è arrivato c'è il cibo e lui è arrivato subito ecco perchè ragazzi abbiamo un super pacco direttamente dall'america perchè qua arrivano snack americani questo pacco mi è stato inviato da ambra ermini e leandro che ringrazio veramente tantissimo facciamo un cuoricino facciamo un cuoricino per loro hanno un sito dove vendono snack americani il sito si chiama america space snack vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione se volete passare a vedere quanta roba buona che hanno mi raccomando se comprate qualcosa taggatemi anche nelle stories di instagram e scrivete hashtag stortina anche io sono un buon gustaglio di snack americani io non so cosa c'è dentro eh eh io prevedo tante robe prevedibate eh l'abbiamo solo tagliato pop aperto andiamo a caso andiamo a caso andiamo a caso allora facciamo così pescheremo uno snack a testa si a caso a caso andiamo a caso ok c'è la giresta che fa la parte più bella il pescaccio vai 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 pensi a prima te vai cos'è attenzione amici candy pop pop corn è interessante questo in italia queste cose mica le fa ma non mi ricordo nel cinema amici quanto tempo che non vado poi misto cioccolato ah che brividi misto cioccolato sai che dicono qui dietro allora perfect match to our favorite tweets ok 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 a sencela capisci perché in america non esiste la dieta mamma mia amici sarà meglio mettere a parte fantastici voto ok voto vai voto a dieci 9 e mezzo 9 e mezzo mamma mia buoni 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 buonissime non lasciarli in via lasciali qua che stanno bene ragazzi vediamo che si tirano fuori per fare qualcosa di salato attenzione i citos citos crunch ah formaggio c formaggio e tos oh e no è prosciutto del tos tipo prosciutto colto vai da un'ora non mi convince però dai lui non è tanto di formaggi io tipo mangio zola con zola no hai detto che non ti piacciono hai detto che non ti piacciono scusa no ma ma vabbè è un mix tra dolce e salato se ti c'è una puntina di dolce ragazzi ma io do otto e mezzo otto io otto e mezzo perché l'odore non convince però quando lo assaggi non hai detto non te ne pene dovete assaggiare le cose mica assaporarle con il naso scusa eh giusto vai prossimo andiamo con il terzo troppo rapido allora cosa mi ha pescato qua no vabbè oh arti e citos a gusto hamburger come è il gusto hamburger io amo gli hamburger li amo quindi qua potrei impazzire non so se no vabbè ma che ragazzi ma sembra il mei il crispy mac bacon del mac vai micchi una raga io sono a dieta eh ciao dieci 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 ma dieci raga sconcordo no dovete provarli no dovete provarli sono troppo fuori mamma mia no no spettacolo spettacolo comunque per ora sti popcorn mi hanno sorpreso io le patatine patatine io per ora popcorn perché forse sapete perché perché i popcorn a me non piacciono molto anche quando vado al cinema non ne prendo mai prendo sempre patatine no mai sempre patatine quindi diciamo che i popcorn ne mangio poche patatine ne mangio tanti e questa è la prima volta che me ne mangerai alcun cuore di popcorn così perché poi non ha neanche quelle cose che ti si incastrano non identiche mi danno sempre fastidio per ringraziare i produttori di popcorn che ci fanno incastrare le cose tra i denti vai micchi partiamo con il quarto tocca a me ahhh cos'è qua abbiamo bisogno di bicchieri mi serve una mano può tenere la scatola vai uh uh cos'è cos'è guarda che bella ma io non aprirei ragazzi vegeto si vegeti vegeta vegeta versione vegeto ma che bevita è apple alla mira ambre mini leandro ma quante cose mi avete inviato e poi tutte buonissime troppo buono eccoci ok cannucce però la rossa è tua a proposito di cannucce settimana prossima ovvero venerdì prossimo vi spoilerò però vi dico solo abbiamo usato queste cannucce per fare una challenge epica da world record vi dico solo questo venerdì prossimo ore 13 e 30 dovrebbe essere la mila vai 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 prima te no no non ti piace prova così così non è male così perché anche non l'abbiamo messo in frigorio io direi un sei e mezzo cinque e mezzo cinque e mezzo sei e mezzo anche vabbè che io io ti frutta non so tanto vai tocca te andiamo con il mi sa che c'è qualcosa altro da dire qua eh beh quinto abbiamo delle baccalo blue cheese ma piccanti molto molto piccanti vai vai michi a te l'uomo io muoio no dai no dai però sostenibili buonissime molto buone sono buonissime sapore buonissime se non erano piccanti e io non avevo il problema dello stomaco me ne saremo non troppo piccanti voto 9 io le do 8 e mezzo per il sapore con questo video tocca a me ho messo su 15 chili prossimo oh i ris al cioccolato risis 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 al cioccolato bianco maron ma questi sono sono una mano dal cielo ragazzi no vabbè io se questi mi fanno impazzire cascasse il mondo io domani faccio un ordine solo di questi vogliamo uno screenshot assolutamente e dopo lo vedremo cos'è non ti piace no vabbè no vabbè ragazzi io vado capone tranquilla che lo facciamo insieme all'ordine è una follia sono troppo buoni 12 voto 15 20 50 2000 non hanno il voto sono troppo buoni c'è raga america space next risis a volontà questi se non li provate vi perdete una cosa unica tocca a te cos'è ah attenzione un'altra botta un'altra botta amici risis fast break king sides questi erano buoni questo cosa sarà ho paura allora è una barretta io faccio l'assaggio perché vi ricordo che sono a dieta sono assaggiate allora buona preferisco lato 8 8 non bilancio io vado con 7 7 buono però non male tocca a me oggi sento una cosa strana ce la posso fare prenderla i pesciadini i colpisce baked snack crackers questi sono gli originali questo no aspetta che gusto è questo è un originali originali no ma questi mi sa che sono semplici cracker proprio questi sono di questi latini dai domani buoni poi ci stanno non sono neanche troppo salati sai dai questa ne ha passata anche una ora che ne dite guardatelo 7 e mezzo 8 perché comunque è una buona merenda per me che faccio la dieta però in effetti ma se cosa non sono molto salati quindi bene direi allora cosa abbiamo attenzione una fanta mi sa i frutti di bosco perché vedo della frarani delle abboni premesso a me la fanta quella originale non mi piace dalla sabri ho assaggiato la fanta di appunto american space snack e ho detto che da lì la fanta l'avrei bevuta però sono la porgozza quella mango quella mango che andavo a mango ragazzi mickey bar che è bello oddio è buonissima oddio è buonissima questa è raga ogni salsa che fate un cucchiaio di zucchero mi fa paura 9 e mezzo 8 e mezzo 9 e mezzo mi piace tantissimo però aspetta immaginate la fresca 9 raga 9 quel mezzo è cambiato solo immaginandose la fresca questa fresca ma quanta roba buona ci hanno mandato dobbiamo fargli complimenti perché hanno fatto una selezione di prodotti ragazzi che veramente non ce n'è uno che non è buono è vero è vero tocca a me vai trovate una scatola vai alla mandorla pochi alla mandorla guinness world record gentilmente riesci a leggermi per favore storto ma non troppo ha raggiunto il guinness world record per aver mangiato una bacchetta in 40 minuti cavolo po' troppo po' apertura facilitata non ci resta che assaggiare questo non ce n'è uno che ha assaggiato che non è buono 10 10 dai 10 perché questi sono quali tutti che buoni e non finiscono e non finiscono c'è dentro una marea di roba la Hershey's io non l'ho mai assaggiata io l'ho già assaggiata e gli do già 9 a prescindere a prescindere perché sta che buonissima non l'ho mai assaggiata ma la sempre sento a parlare troppo bene ai cookies and cream io do 9 ragazzi io inizio a non assaggiare cose magari che ho già assaggiato più caldo perché ho paura poi di star male per il problema del mio stomaco vuolta measure 10 e mezzo per me il cioccolato bianco piace un vuoto raga buonissimo e quindi tocca a me mi chiedi c'ho zuccherini ormai io potrei tornare a casa a piedi cosa sono? questi li conosco io invece e io non li conosco allora qui c'è uno cracker con dentro c'entrano anche le noccioline gli arachidi scusami ma le hai assaggiate io e in più tu sai cosa c'è all'interno? un più l'ordine dentro questo codice QR con cui puoi giocare ma che spettacolo fa un paura preparati no vabbè no vabbè 12 c'è quel po' di caramello 12 10 no 12 per me è 12 10 ti tocca? tocca a te tocca a me qualcosa da bere? dai dai qualcosa da bere vai attenzione abbiamo una fanta la pesca il profumo qua merita tutto non devo staccarmi 15 15 questo è te frizzantino questa fresca 15 do anch'io 15 fanta se vuoi prenderci per fare la pubblicità Michi io direi però questa è fuori di testa ok chi tocca? vai 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 no raga ma quanta roba cosa hai pescato Michi? ma io impazzisco allora milk chocolate and creamy caramel quindi abbiamo una barretta di cioccolato con l'interno del caramello ok io muoio qua oggi eh non ce ne ho in due ecco pezzetto oddio 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 raga oddio aspetta aspetta sta male ragazzi America Space Next io vi amo ma li stiamo parlando se non comprate America Space Next vi perdete un'esperienza ragazzi che va fuori dagli ogni limite possibile immaginario e terrestre cioè Michi ma di che stiamo parlando? sto caramello che è finofono voglio veramente precisarla questa cosa ragazzi dovete sapere che America Space Next mi ha inviato questo pacco come regalo e sono stato io a dirgli vi faccio il video davvero perché allora ho detto non c'è bisogno volevamo farti come regalo perché appunto abbiamo visto il video con la Sabri ci è piaciuto tantissimo sei stata simpaticizia e tutto e quindi loro mi volevano fare questo dono solo per me per mangiarmelo proprio da solo e io ho detto no faccio un video perché e ora sono contentissimo di averlo fatto perché veramente meritano tantissimo ragazzi e andate mi raccomando a dare un'occhiata al loro sito perché è tutto buonissimo veramente vado vai abbiamo un mallocup mi sa che sono delle pettine di cioccolato mi sa che dentro c'è il marshmallow siamo pronti ma no vabbè no vabbè è cocco c'entro cocco e c'entro marshmallow però so solo che sono buonissimi 9 9 tocca me vai vabbè ok gli Oreo easy però sono dark and white quindi metà 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 allora mi piacciono ma non li amo sei in mezzo qua si buoni ma non mi hanno colpito vai tocca a te prendiamo da bere Michi vai questo Michi lo conosco cos'è? questo è l'arizona t questo Michi sei pronto? fai un sorso e me lo finisci preparati preparati buono preferisco la Panta penso ma li conoscivo di meglio buona però eh 8 vero io devo invece 7 dovrebbe essere 3 ancora Michi vai non sarà mica quello che insegna biscotti a burro d'arachidi no vabbè allora vai Michi oh ragazzi sto male sono piccolini è a forma di noccioline burro d'arachidi per me lo possono mettere da qualsiasi parte vediamo se c'è mamma mia 11 buonissimi vai toccate a me ci attirei fuori tutti e due grazie per averci scelto ragazzi vi danno anche una bella cartolina dove vi ringrazio nell'ordine ragazzi io ve lo ricordo trovate il link in descrizione perché veramente sono stati bravissimi e meritano veramente tantissimo ok gli ultimi due Michi abbiamo delle caramelline che io lascerei per un altro i mochi i mochi i mochi mango mango mochi al mango mochi al mango senti che roba Michi questi con la fanta la pesca raga perfetti raga fate un ordine ovviamente dietro mochi al mango fanta la pesca e impazzite ultimo ultimo raga sono tantissi zuccherini i nerds e dentro è pieno è pienissimo ok hanno presi due vediamo ma sarà il tipo di interlocicche no mmm frizzanti vuoi non ti faccio da sono un po' di dash in bocca stanno bene però io devo toto te sei e mezzo sei e mezzo ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto abbiamo assaggiato mamma mia che snack assurdi io voglio veramente fare di nuovo ringraziamento speciale ad ambra ermini e leandro di america space snack vi invito e mi raccomando a passare dal loro sito che trovate sotto in descrizione grazie mille per il vostro dono tutto buonissimo veramente quello il tuo preferito con l'estate ok diamo il preferito il preferito in assoluto bere fantana pesca fantana pesca mangiare mangiare niente ragazzi lo dico i risis al cioccolato bianco e burro d'arabi esatto vai toccate sul bere dico la verità il mio orizzona e dammi da mangiare anche te niente ragazzi i risis bianchi marroni cioccolato assurdi qualsiasi cosa assurdi troppo buoni veramente ragazzi che dire vi invito e mi raccomando di lasciare un bel like a questo video vi ricordo che sul mio canale escono i video 4 volte a settimana il lunedì mercoledì venerdì e domenica alle ore 13.30 non perdetevene neanche uno e che dire ringraziamo anche il nostro amico per averci fatto compagliare questa avventura culinaria grazie a te amici ringrazio amico space snack e ci vediamo alla prossima ciao bello vai raga viaggio che viaggio no ci mancava una cos'è gli sminker e brownie assaggiamoli troppi zuccheri troppi zuccheri un'altra botte di zucchero ciao ciao ragazzi ciao 10 impazzisco impazzisco ciao ciao Ciao